Il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Il nostro canale è www.mesmerism.info A presto! cosa dire quando ti va già scontato per me metterlo con te quando la volta ci ha avanzato non ci deve andare a me ma stasera sta pensiero linda ma chi non parlava che hanno già restato in bagno di casa pure due due minuti fuori non riesci a parlare poi tirando sui cape ti fa più vicino a me mentre la tua camicetta si sbottola sempre più piano piano la mia mano scendeci e poi cominciamo a te sbagliare da prima volta non ho fatto tu stai tremando con me ma non ti voglio fare ti voglio solo a casa e se vuoi tu vuoi saspetta la vita non è da me si ma non sapete passerà salda suda suda suda